è questa, quella che vedete adesso vicino al mio cursore del mouse premessa, questa funzionalità l'ho installata io ma non è entrata di default o meno finora non lo è, in Unity cioè un'aggiunta in Unity, una proposta che o non ha fatto tempo a entrare per questa versione di Unity o comunque non si sa se avrà veramente il futuro o no, pare di sì comunque che abbia un futuro però probabilmente per l'aprile, fine aprile, questo aprile non arriva a essere installata di default bisognerà installarla a parte se la si vuole ed è questa gestione delle barre di scorrimento barre di scorrimento dinamiche ecco, un'applicazione che non supporta o non riconosce queste barre di scorrimento per esempio il terminale, vedete che ha la classica, eccola qua, la barre di scorrimento come l'abbiamo sempre vista e come la vediamo anche nell'ubuntu attuale 10.04, 10.10, la solita barre di scorrimento tenendo presente l'obiettivo di Unity che è quello di risparmiare il più possibile pixel dello schermo spazio schermo e darmi il più possibile le finestre ci si è detti, ecco, anche le barre di scorrimento fisse contribuiscono a rubare spazio finestra infatti non sono tanti pixel, però vedete che questo spazio in realtà non è di terminale ma è dedicato alla barre di scorrimento un applicativo invece che supporta già queste barre dinamiche è proprio Tomboy qui nella nostra scaletta vediamo che c'è una zona arancione qui a un certo punto che rappresenta il livello di scorrimento dove siamo arrivati avete visto che è lunga la nostra scaletta ecco, vedete, partiamo in cima e la zona arancione va in cima andiamo in fondo e la zona arancione è in fondo ecco, la zona arancione è quell'indicatore che ci dice vai col mouse lì per fare apparire la tua barra di scorrimento dinamica quindi se vado qui sopra dove non c'è l'arancione col mouse non trovo niente, non appare nulla appena arrivo in zona arancione ecco che appare il piccolo cursore per andare in su e andare in giù paginando né più né meno come qui in un terminale con questa barra di scorrimento ecco, il vantaggio cos'è? è che la mia nota tomboy, come potete vedere è alla superficie del testo che è completamente sfruttata la barra di scorrimento non esiste se io, a meno che io non voglia farla apparire eccola qua, vedete e non influisce sulla larghezza dell'area della finestra dove io posso scrivere quindi il vantaggio di queste barra di scorrimento è che fanno guadagnare ulteriori pixel ulteriori spazio schermo per la finestra in causa interessata un'ulteriore particolarità è che se c'è posto verso sinistra o verso il basso, diciamo, quando è il caso il cursorino qui di scorrimento appare all'esterno della finestra se non c'è posto, ecco, se io porto più in là verso il confine dello schermo la mia scaletta vedete che la barra di scorrimento allora in questo caso appare appare all'interno è vero, si sovrappone un attimino nel testo che è vicino al bordo però è poco temporanea mi tolgo di zona con il cursore del mouse e la barra di scorrimento dinamica sparisce quindi non disturba più di tanto però, ecco, è prevista che appare ovviamente all'interno se non c'è posto, verso destra per farla apparire risposto la mia scaletta un po' più al centro e riappare di fuori la barra di scorrimento vedete, molto carina questo vale anche per il bordo inferiore penso che con un'autilus con il file manager posso mostrarlo se entro in una cartella un po' piena di file vediamo un po' ecco ecco qua diciamo che si restringo un attimino vedete che appare la zona arancione anche sotto ecco, vedete che appare sia qui dinamica qui praticamente sotto essendoci la barra di stato già dalla finestra ci sarà sempre posto di apparire sotto mentre qui stesso meccanismo che il tomboy appare di lato se c'è posto ma se io sono già sul confine dello schermo apparirà all'interno vedete o se io sono già sotto lo schermo vediamo un po' se riesco ecco, vedete appare all'interno se io forzo la situazione anche in basso quindi sono proprio dinamiche queste barri di scorrimento io le trovo molto carine non so se diventeranno appunto mai una soluzione definitiva o meno però mi sembrava valesse la pena mostrarvele come preview di una tecnica che potrebbe far parte integrante di Unity in un prossimo futuro qui c'è anche un link dove è spiegato come installarlo cosa fare come attivare questa opzione se volete andate anche voi se state provando Unity per attivare queste barre dinamiche di scorrimento andiamo avanti il pulsante in alto sinistra con il simbolo Ubuntu cambia colore diventando azzurro se c'è un applicativo che richiede attenzione o ha problemi non ho trovato un modo per simulare questa situazione ma mi è già capitato di avere Firefox bloccato e di vedere il pulsante azzurro ecco, questo vabbè, purtroppo non ho un modo immediato per simulare neanche a scopo didattico il fatto che questo pulsante qua in cima quello che di solito chiama il dash globale o comunque quando è nascosto che mostra il launcher ecco, questa zona qui dove c'è il simbolino in alto sinistra proprio il simbolino diventa azzurro diventa un azzurro tipo questo del LibreOffice Writer ecco, ci sono in rete degli screenshot dove lo mostrano colorato quando c'è un qualcosa con qualche applicativo del sistema che deve tirare l'occhio dell'utilizzatore questo simbolo di Ubuntu che di solito è sempre bianco tira l'occhio perché diventa azzurro ecco tutto qua e non posso mostrarvelo purtroppo alcune icone andiamo avanti prossimo punto alcune icone sul launcher possono dare informazioni utili all'utente come ad esempio il numero di mail da leggere o altro a dipendenza dell'applicazione e se l'applicazione stessa è stata integrata con questo sistema di notifiche sarà possibile ridurre lo stato dell'applicazione direttamente dando un'occhiata al launcher ecco questo è un ulteriore valore aggiunto magari posso chiudere i termini già che ci sono che non ci servono ecco ulteriore valore aggiunto del launcher oltre ai vari triangolini tasti destri eccetera che abbiamo visto finora c'è anche questa possibilità scusate questa opzione che è già integrata ed è possibile integrare i propri applicativi per gli sviluppatori con questo sistema con delle indicazioni direttamente sull'icona ecco io non ho attivato il momento per dimostrarvi questa cosa non ho uno di questi applicativi a disposizione che vi mostri quanto è spiegato qui ci sono degli screenshot in rete che vi mostrano degli applicativi tipo quello di Evolution che è la gestione della posta il client di posta ecco quando ci sono delle mail non lette appare un numero dei messaggi non letti direttamente sull'icona per esempio quindi il launcher che già ho appena detto è un oggetto centrale di Unity si carica ulteriormente di informazioni per l'utente e quindi il launcher diventa ancora più a valore aggiunto benissimo andiamo avanti ancora allora per massimizzare una finestra non serve più usare l'apposito pulsante in alto a sinistra ma basta prenderla e trascinarla verso il pannello superiore quando appare un velo azzurro trasparente sullo schermo significa che si può rilasciare la finestra che verrà massimizzata allora vediamo un po' cos'è tutta sta cosa complicata spiegata a parole quando io apro una finestra per esempio apriamo l'editor di testo che ha una sua grandezza così che non è né massimizzata né niente dico voglio massimizzarla opzione prima a venire qui col mouse centrare il pulsantino qui e la finestra si massimizza però c'è un'opzione forse più immediata o più facile da centrare col mouse non so insomma un'opzione come il caso carina e pratica è quella di prendere la finestra e portarla verso il bordo superiore a un certo punto appare ecco questo qui è il velo azzurro di cui ho parlato nel testo della scaletta e questo vuol dire che adesso si è attivata l'opzione di massimizzazione quindi rilascio la finestra con il mouse e diventa massimizzata parimenti la riprendo dal pannello superiore la ritrascino verso il basso e diventa e diventa di nuovo della sua dimensione per affiancare due finestre sullo schermo basta fare la stessa cosa ma trascinando una finestra verso il bordo sinistro e un'altra verso il bordo destro ecco questo è veramente molto molto pratico e secondo me è una funzione che mancava un po' nello nome standard senza compits è quello che ogni tanto c'è la necessità di mettere a fianco due finestre per compararne il contenuto o quant'altro fare dei lavori fianco a fianco e o si regolano manualmente così però non sono mai la stessa dimensione una è un po' più grossa l'altra è un po' più piccola un po' più alta un po' più bassa o si sfrutta quello che abbiamo appena letto nella scaletta cioè invece di portarla in alto per massimizzarla la finestra si porta una verso sinistra e viene massimizzata su metà schermo praticamente viene massimizzata nella parte sinistra dello schermo mentre l'altra finestra usiamo pure la scaletta la portiamo verso destra e viene massimizzata nell'altra metà destra dello schermo quindi vedete che abbiamo due finestre di larghezza e di altezza identiche automaticamente ridimensionate come vogliamo e possiamo lavorare giocare sulle due finestre parimenti come prima se prendo il bordo qua sopra del titolo lo ritrascino via ridimenta come prima stessa cosa ridimenta come prima molto pratico come potete vedere e qui è quello che spiego quello che avevo appena mostrato in pratica è quello che spiego in questo punto quindi tenete presente è anche facile da memorizzare non c'è qualche scorciatore la tastiera strana ma semplicemente agire con il mouse prende la finestra massimizzata ritrascinarla giù si riminimizza diciamo verso sinistra la metà sinistra verso destra la metà destra molto facile è molto pratico poi chiudiamo premendo la combinazione alt f2 oltre a poter cercare un comando da eseguire ecco questo per chi usa gnome da una vita niente di nuovo alt f2 è quello che nell'ognome standard tradizionale tradizionale faceva apparire quel dialogo nel quale si può iniziare a scrivere un comando che si conosce e poi lo si può eseguire anche qui l'alt f2 si scrive non so terminale forse gnome ecco e poi uguale gnome appearance ecco questo qui l'aspetto per esempio l'aspetto ho iniziato a scrivere gnome e poi posso schiacciare il suo aspetto per farlo partire né più né meno dell'alt f2 dell'ognome classico qui però bisogna proprio conoscere il comando né più né meno dell'alt f2 classico proprio il nome del comando come se lo si scrivesse lo si richiamasse da terminale a parte questo la particolarità che volevo mostrarvi non era l'alt f2 in quanto tale perché questo è già conosciuto ma è il fatto che si può scrivere la stringa about due punti config nell'alt f2 che non è altro che la stessa sintassi che si usa in firefox o in chrome per far uscire il pannello delle configurazioni di sistema dei browser internet quindi si scrive esattamente la stessa cosa quindi è già conosciuta dai browser e è stata ripresa opportunamente qui per comodità quindi si scrive about config e vedete che nei risultati esce l'iconcina del plugin unity di compis facendo enter parte e si il configuratore di compis che abbiamo già usato all'inizio del tutorial per mostrarvi le varie opzioni e spiegandovi che unity è un plugin di compis ecco parte e si posiziona direttamente nelle opzioni del plugin di compis quindi vedete chiudo quindi alt f2 adesso nella cronologia è già qui subito qui la prima icona però scrivendo about config è la stessa cosa che aprire il configuratore dei compis e posizionarsi sul plugin di unity vedete qua ecco con l'iconcina melanzioletto melanzana escape per l'oncina